Lui ha visto che queste due persone venivano non dal cancello, dalla parte opposta, quindi è cosa o meno normale che i due sconosciuti vengano da là, da là non si entra. Ha approfittato che la postina ha aperto, sono entrati, dopodiché lui gli è venuto questo intuito e ha detto ora non li mollo, ora voglio vedere che fanno. È stato grazie all'intuito e alla segnalazione di una giovanissimo che la squadra volanti della questura di Arezzo è riuscita ad inchiastrare due topi d'appartamento. È successo ieri mattina poco dopo le 11 in via Alpe della Luna, zona Montefalco, dove un ragazzo di 15 anni ha notato due uomini a girarsi con fare sospetto all'ingresso del condominio, li ha così filmati e poi ha chiamato la polizia. Lui ha seguito, ha visto che non gli piacevano perché avevano due capellini, borsette a tracolla, insomma persone un po' sospette, ma che non si vede usualmente. E niente, è andato controllato dalla porta, dall'occhiolino e poi dalla finestra e da lì li ha visti andare uno prima al parco e successivamente entrare in questo edificio qua, al numero 13. Gli agenti delle volanti guidate da Luigi Stanzione sono così intervenuti tempestivamente bloccando le vie d'uscita del palazzo. Una volta saliti al secondo piano hanno beccato i due malviventi che dopo aver già oscurato gli spioncini con un rossetto stavano tentando di scassinare la serratura. Alla vista delle forze dell'ordine i due banditi hanno anche provato a minacciare gli agenti con una siringa, ma sono stati comunque bloccati, identificati e perquisiti. Ed hanno beccati a una porta e stavano aprendo. Oltre al rossetto i due sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico ed altri ferri del mestiere. In manette sono così finiti due cittadini georgiani, un 29enne ed un 30enne, entrambi con precedenti per furti in abitazione. Rieducare anche l'educazione civica sarebbe importante, la collaborazione per i cittadini e anche per le forze di polizia, di Stato, perché insomma che ci sia modo di potersi tutelare anche tra di noi.